Ma su cosa sto seduto? Oh, ehi, la mia vecchia corda. Mi chiedevo dove fosse finita. Ah, a cosa ti serve? Fa schifo. No, affatto, è stupenda. La posso succhiare per il sapore, la posso roteare, far finta che è un serpente. A volte mi limito a morderla così. Corda! È stupido. Ok, la voglio. Beh, non la puoi avere, è mia. Ah sì? Non per molto. Andiamo, Brian. Mi serve in caso dovessi aprire un ristorante in stile marinaro. Venite alla capanna del granchio di Pete. Abbiamo pezzi di barche alle pareti. Così sapete che i granchi vengono dall'oceano. Mangiare accanto ad uno blu... Oh, cosa? No, 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 questo scambio no. Credevo di voler fare lo scambio, ma non voglio fare questo scambio. Ehi, Chris, dov'è tuo padre? Sta ancora cercando di sottrarre quella corda a Brian. Deve smetterla con questa ossessione. Non mi piace come lo sta riducendo. Tessoro! Lo voglio sì, il mio tessoro! Peter, basta con questa corda! Peter vuole anche gelato! No, Peter, fra poco dobbiamo cenare. Peter vuole lo stesso gelato! Non ci provare! Ok, ma torno tra un momento con un altro film. Non sei andato al lavoro oggi, vero? Allora, hai ancora la corda, vedo. Beh, io ne ho una migliore. Quella non è da masticare. Lo so, questa è da legare. Andiamo, Brian, meglio che la molli! Te l'ho detto, è mia! Non potrai mai averla! Dammi la corda e nessuno si farà male, Brian! Uno solo deve farsi male, Brian! Ok, ti avevo avvertito. I miei denti! Oh, è orribile! Mi dispiace molto per la tua bocca, Brian! Accidenti, Peter! Ma che avevi in testa? È la cosa più stupida che tu abbia mai fatto! No, Brian, la cosa più stupida è stata spegnere le bolle in un idromassaggio. Sì, festa! Oh, bagno collettivo! Ricordatevi, Brian probabilmente sarà molto imbarazzato per il suo aspetto deforme. Non facciamoglielo pesare. Brian, è in tavola! Salve, com'è andata la giornata? Cosa c'è per cena? Muoio di fame. Mio Dio, sembri uno di quegli animali! Hai presente? Sì, quelli che fanno... Quel sono lì, quel... Oh, dai, che hai capito! Ah, chi voglio prendere in giro? Dovete portarmi alla dentista per aggiustarmi la bocca. Brian, possiamo cercare di renderti un po' meno repellente. Ma non è che spendiamo soldi umani su un animale deforme? Cosa? E che cosa dovrei fare allora? Non lo so, ma questa te la puoi riprendere. È una noia mortale, non fa niente. Sai una cosa? Balli in fenda, Peter! Porca zozza, non passavo una serata a tavola così eccitante da quella volta a casa di Tommy Sullivan? Sono molto buoni questi maccheroni, signora Sullivan. Grazie, Chris. È stato disgustoso, Chris. Terribile. Non è ancora pronto per il flashback? No, niente affatto.